Vertice su una manovra con Conte a Palazzo Chigi, la Lega conferma quota 100 sulle pensioni, il carroccio, impegno di Tria a cercare soluzioni. I vicepermer compatti, reddito di cittadinanza solo per gli italiani, i primi provvedimenti per le imprese su fatturazioni e Ires. L'Italia prima in Europa per evasione dell'IVA, il mancato gettito ci costa 36 miliardi, dati relativi al 2016. Stadio della Roma, 400 mila gli euro offerti da Parnasi alla politica, indagato Bonifazio del TV, una pista porta ad una fondazione vicina alla Lega. Tanzania, un traghetto si capovolge sul lago Vittoria e affonda quasi 150 le vittime, decine dispersi, solo 40 in salvo. Sono 34 i conflitti in corso coinvolti tutti i continenti, tranne l'Oceania, oggi a Roma la presentazione dell'Atlante delle Guerre 2018. Il giorno è la settimana.